Salve a tutti, popolo del web. Rieccoci in un nuovo video, l'argomento che discuteremo tutti insieme, finalmente tornata alla Champions League. Discuteremo di due partite, Dynamo Kiev Juventus, PSG Manchester United. Mi raccomando di mettere like al video, cosa importantissima, iscriversi al canale. Discuteremo di due partite di Champions League, Dynamo Kiev Juventus. La Juventus si mette fin troppo bene perché un certo Alvaro Morata ti segna l'1-0 e sul finire ancora Alvaro Morata ti segna il 2-0. Complimenti a Andrea per la vittoria. La seconda partita di Champions League che andremo ad analizzare. PSG Manchester United. Davvero una partita a cardiopalma. Incredibilmente passa in vantaggio il Manchester United sul calcio di rigore. Fernandez segna l'1-0. Poi l'1-1 purtroppo è un autorete dell'attaccante del Manchester United Martial. Si pensa a un pareggio ma mai dire mai nel calcio. Rashford per il Manchester United segna il 2-1 definitivo. Nessuno si immaginava una sconfitta del PSG in casa. Ma come dico sempre io, non tutte le ciambelle riescono con il buco. Andrà meglio la prossima volta per il PSG. Però faccio i complimenti al Manchester United per la vittoria. Siamo giunti al termine di questo nuovo video. Ma raccomando, condividiamo i video in coppia social, Facebook, Twitter e Instagram. Io vi voglio bene a tutti quando ci avremo al prossimo video. Ciao, adiu. Grazie. 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 Grazie.